E adesso invece vediamo l'aggiornamento relativo agli insetti partendo da Carpocapsa. È presente un piccolo residuo di uova che ancora deve schiudere. I tempi per la schiusura con temperature medie comprese tra i 15 e i 26 gradi sono di 8 giorni. Le larve già nate oltre il 90%. Il volo adulti è in calo ma sono presenti ancora con valori compresi tra il 30 e il 50%. Pandemis. Premesso che quest'insetto quest'anno sembra scomparso, da modello abbiamo il volo degli adulti è in calo. La deposizione delle uova ha superato l'80 e il 90%. Le larve nate sono comprese tra il 30 e il 48%. Eulia. È iniziato il volo della nuova generazione e oggi ha valori compresi tra il 5 e il 14%. In questi giorni inizia la deposizione delle uova e con temperature comprese tra i 15 e i 26 gradi le uova si sviluppano circa in 10 giorni. Pertanto oggi si prevedono le prime nascite attorno a metà del mese. A te Andrea. Cominciamo dalla Carpocapsa. Il modello previsionale, come abbiamo sentito, ci dice che oramai siamo alla fine della prima generazione di Carpocapsa. Il modello previsionale ci dà sicuramente un'indicazione fondamentale che vale sicuramente per la maggior parte delle avvende della provincia. Però ci possono anche essere delle situazioni particolari. Mi riferisco ad avvende con elevate popolazioni, dove magari lo scorso anno abbiamo avuto danni. O campi vicino a piante di noci, che sappiamo essere molto recettive per questo insetto. Situazioni particolari che vanno gestite attraverso la conoscenza e il monitoraggio dell'avvenda da parte sia del tecnico che del produttore, del proprietario dell'avvenda. In questi casi, se notiamo che nelle trappole continuiamo a catturare insetti oltre la soglia, oppure notiamo qualche inifio di danno sui frutti, può essere opportuno ancora per questa settimana o per la prossima intervenire. Gli interventi consigliati sono sempre con il virus della granulosi, e quindi prodotti come Madex, Carpovirusine o Carpostop o Virgo, oppure si può impiegare il clorpirifos etile, quindi Durban o Alizé. Questo prodotto ha un'efficacia anche eventualmente contro i ricamatori, che però ad oggi non si sono ancora visti, anche se dovrebbero già essere presenti le larve di pandemis, ma la popolazione è bassa se non nulla, e ha una buona efficacia anche contro la cocciniglia, che in questa fase è nella fase di migrazioni neonidi. Un altro insetto che in quest'ultime settimane ci ha dato molti problemi è sicuramente la psida del pero. La popolazione si è presentata in molte avvende molto alta e soprattutto questa generazione è molto lunga, e quindi attualmente abbiamo ancora molte avvende con produzione di melata. Gli insetticidi oramai sono già stati fatti da 20-25 giorni e quindi stanno cedendo. In questa fase è molto importante l'aiuto che ci dà il predatore classico della psilla, cioè l'antocoride. Il mio consiglio è di non reintervenire ancora chimicamente, se notiamo ancora melata, ma cercare di difendersi con lavaggi, con abbondante bagnature nelle ore fresche della giornata, eventualmente, dove è possibile, con i righezioni sopra chioma. Ora ridò la linea a Cleglia che ci parlerà delle drupacee.